Stava nuotando poco lontano dalla riva quando avvistando uno squalo ha cercato di fuggire ma è stata raggiunta, aggredita e uccisa. La tragedia in Sudafrica nella mattinata di domenica davanti alla spiaggia di Central Beach nella cittadina di Pletenberg Bike nella provincia del capo occidentale. La vittima è una donna di 39 anni che era in spiaggia insieme ad altre persone per un tuffo mattutino. Il mare era calmo quando in acqua è apparso improvvisamente un grosso esemplare di squalo bianco. Drammatica la scena descritta dai testimoni sul posto. Tutti quelli che erano in acqua hanno iniziato ad urlare cercando di uscire al più presto dall'acqua. Così ha fatto anche la 39enne che però è stata puntata dall'animale e non è riuscita a scappare. All'arrivo sulla scena i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita della 39enne. Questo è il secondo attacco mortale di squalo nell'aria negli ultimi tre mesi. Per questo le autorità locali assicurano che presto sarà installato una barriera per gli squali nell'acqua insieme ad altri segnali di avvertimento.